Ma se non arrivi al Duomo non sei arrivato a Milano Eccola I ragazzi, questi due, sono venuti da Roma a Milano col monoruota Uno e uno due, Roma a Milano Piave Buongiorno raga Questo è l'ultimo giorno di viaggio I monorotisti da Milano ci stanno venendo a prendere Dalla mia faccia si può capire che sono stanca morta Però è stato bellissimo davvero Mi fai delle compagne di viaggio? Tu sei le mie compagne di viaggio E io viaggio Eccoci arrivati alla stazione di Piacenza Sani e salvi, esatto Batteria è carica Io ho fame, ho fame, andiamo a fare colazione Buongiorno Buongiorno davvero Ciao Eccoli Ah c'è lo Sherman Ciao 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 ragazzi Eccolo Eccolo Ciao Ciao Carissimo Eccolo Ma guarda che camicia più cosa Sì e dopo vado a pranzo Ciao Buongiorno Eccoli Eccoli Eccoci qua Di nuovo tutti i riviti Sì Ezzun aruata Si volà Ciao Ci sono Eccolo Comunque Eccolo Ciao Siamo sulla via per Milano Stiamo arrivando finalmente Eccolo E voglio sentirli chissero Vai 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 Raffa Niente Raffa non supera Eccolo Eccolo Tutti i mantecati nella forma di grana Che sono l'importante che ci fa ricaricare Stavoste Stavoste Bene che siamo Grave giusta Se è tutta così è spettacolo Eccoci Stiamo costeggiando un po' Qua alla nostra sinistra Stiamo puntando direttamente Al posto dove andremo a mangiare Arriveremo per le due E faremo pausa pranzo Ricarica E metteremo le ore diciamo un po' più calde Eccoci Tutti insieme Stiamo tornando verso Milano Oggi ci aspettano circa 125 km Il percorso bellissimo C'è la ciclovia del Po Top E guardali lì Belli E niente A Piacenza c'è Anche venuto a salutare Manuel E Manuel Z10 Basta Guardali qua che belli Comunque la ciclovia del Po È davvero bellissima Tutta dritta In mezzo alle campagne In mezzo al drano turco Eccolo Quindi oggi si va a mangiare Cos'è che si va a mangiare? Ah mangiarlo al pollo Niente Pollo Mangi un pollo Ovvio Guardalo lì Secondo voi Perché si è fermato Ma Ma Picci In mezzo alle campagne ciao bello è proprio un colli che bello è piccolo aggiornamento spero che si senta qualcosa noi siamo dentro pavia stiamo procedendo verso il ristorante e niente siamo un filo in ritardo nel senso che sono le 2.20 più delle due mezza e niente ci sono le ruote un po più piccole diciamo che sono rimaste abbastanza batteria quindi stiamo procedendo tranquilli mentre altri tre sono già avanti Umberto il Paolo e l'Antonio sono già al ristorante e niente però noi stiamo dalla parte dei piccoli stiamo facendo più tranquilli e niente ci si vede al ristorante vediamo se ci trovano ancora da mangiare o se dovremmo mangiare un kebab mangiato abbiamo mangiato bevuto abbiamo bevuto adesso finiremo e si torna a il pilano e fatevi una vita vostra esatto esatto compratevi una ruota che bastardo ma tutti tutti ce l'hanno già tutti la ruota vero? meglio buone le pappardelle? si ce ne ne puoi aprire anche sempre che sono qua con una segnalina tu perdone perché dopo due limoncine che mi hanno offerto due? neanche uno? erano fatti due? ma vai dico di no facciamo l'educato come? adesso regaleremo qualche perla ando farà una teoria del diamante per favore grazie è diventato leggenda l'uomo che è diventato leggenda grazie l'uomo che è diventato leggenda bene ragazzi io sono leggenda era un film che ho fatto dopo che l'ho conosciuto come si dice l'apida? aria alle palle l'altro film era un breakable che se lo leggi in italiano è un breakable e questo si c'era male quindi dopo qualche vino e così abbiamo iniziato a smaltire e partiremo in ruota no adesso siamo sani alcool non ce n'è più in corpo dai bambini si metti qua questa è la ritmica dopo essere stati a mangiare e 26 di massima perché siamo entrato noi siamo bravissimi e siamo rimasti in cinque gli altri due recupereranno che ci siamo persi i mitici la strada è sempre dritta noi ci andiamo tranquilli e siamo praticamente a Milano i venti chilometri siamo arrivati a Milano stiamo facendo l'alzaia che è praticamente tutta dritta e basta giornata bella calda abbiamo agito bene però si tiene il tempo e sembra che arriviamo poi viene la pioggia quindi è perfetto perfetto ecco che è arrivato il pezzetto di offroad milanese molto poco offroad in questa parte potete vedere il naviglio bello gonfio qua i nostri amici, qua il mais e le risaie subito dopo il mais distese di misura si potete ammirare noi siamo un po' come in cinese noi siamo un po' come in cinese stiamo facendo gli ultimi chilometri stiamo facendo gli ultimi chilometri insieme a tutti siamo quasi arrivati a Milano il conto ai chilometri segna 920,4 chilometri dal giorno in cui l'ho zerato a Roma niente passo in più doccia ciao siamo a Milano siamo a Milano esatto lui porta al sole avete fatto Roma a Milano abbiamo fatto Roma a Milano è una canzone per noi la canzone per noi dai salutate che faccio la foto Fabio ecco la i ragazzi questi due sono venuti da Roma a Milano col monoruota 1,1,2 Roma a Milano prova da Kimets 1,2 non è maschio e femmine genere 1,2 genere 1,2 Roma a Milano comunque è meglio della poltrini questo ragazzi la poltrini è anche meno sexy di te molto meno sexy molto meno sexy ragazzi infatti dobbiamo muoverci Napoli grande alto raga dopo 929 chilometri qui siamo a Milano e inizia a piovere cavolino ma che cosa? piove ecco ecco raggiunto l'uomo di Milano conquistato per te facciamo una foto foto raffa raffa c'è ancora raffa grande raffa immortale lui raga l'uomo di Milano eccolo lì conquistato l'abbiamo fatta morti si inquadra le ruotine si state bravissime una e una due non hanno mollato un secondo che ho fatto che ho fatto? gradino kia e io perchè sono un piubere super svegliato gli gelo ci ciao 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 ciao